Jig va, cuore acciaio, Jig va, cuore acciaio, cuore di un ragazzo che senza paura sempre lotterà. Se state ascoltando il podcast e non state guardando il video ho una maglietta gialla che è la mia preferita perché non so perché mi fa sembrare Jigrobo d'acciaio e quindi era il mio supereroe preferito e sono molto contenta di indossarla. Se ci pensate un po' come Jig che cercava di aiutare le persone in difficoltà il lavoro della psicologa e della psicoterapeuta è un po' simile. Io da piccola volevo essere un robot che faceva tutte queste cose sì lo so non avevo queste velleità di principessa però ce l'avevo di robot ma erano lo stesso un po' grandiose se ci pensate in certi aspetti. Mi piaceva soprattutto l'idea di crescere, di cambiare, di migliorarsi questo processo per cui lui si lanciava dalla rupe e acquisiva i componenti, acquisiva sempre di più. Perché ho iniziato con Jig? Perché sto parlando di miglioramento e in generale sto parlando di come essere una buona madre una madre fotonica? Come possiamo definirlo? Beh vogliamo un po' più basso ma ve lo dico dopo la sigla tra poco. Cominciamo! Ciao sono la psicologa Silvia in questi video in questi podcast ti aiuto a trovare serenità e connessione con i tuoi bambini e i tuoi ragazzi utilizzando psicologia e neuroscienze spiegate in modo semplice. Mi raccomando se non l'hai ancora fatto ma perché non l'hai ancora fatto parliamone, metti il cuoricino a questo singolo video, a ogni singolo video mi raccomando mettilo, segui il canale e se stai ascoltando il podcast che trovi su tutte le migliori piattaforme di podcasting votalo in modo che altri utenti possano sapere che contiene dei contenuti che sono interessanti. Torniamo a come essere una buona madre. Questa è una domanda che molto spesso le donne, le persone che lavorano con me mi fanno. Io ho individuato come sempre i nostri soliti tre punti, te li voglio anticipare e poi te li spiego uno per uno facendoti anche degli esempi pratici. Quello che ho pensato sono queste tre frasi. Il primo modo per essere una buona madre è cerca di prendere, di puntare al 6, cerca di puntare al 6. Cosa vorrà dire? Beh forse lo immagini ma te lo dico tra poco. Il secondo modo per essere una buona madre è sì egoista, ma come egoista? Anche questo te lo dico tra poco. E il terzo modo è informati, leggi, studia e poi... e poi dimentica. Stop, dimentica. Oggi sono di canzoni. Va bene. Allora replay, ritorniamo dall'inizio e vediamo nel dettaglio, entriamoci un po', mi piace un po' questo lavoro a imbuto o a piramide, dipende da dove lo vuoi vedere, rispetto a approfondire queste frasi. perché dobbiamo puntare al 6? Ma come? Noi vogliamo prendere un voto più alto, cioè siamo delle secchione della genitorialità. Se stiamo... io sto facendo questi video, voi lo state guardando? Siamo un po' secchione, ammettiamolo, puntiamo un po' più del 6. Va bene, dai, ci sta anche puntare a più del 6, ma quello che non ci sta invece è puntare alla perfezione. Il concetto di Winnicott, che ogni tanto vi riporto, di madre sufficientemente buona, è un concetto molto importante. Attenzione, la madre sufficientemente buona, quindi quella che è abbastanza in bolla, ma non sempre, non è stato inventato per fare pat pat a noi madri quando scleriamo e perdiamo la bussola. È stato inventato perché il perfezionismo nuoce poi ai bambini, cioè i bambini non vogliono genitori perfetti. A loro sta bene se ogni tanto perdiamo la bussola, se ogni tanto scleriamo. Ricordiamoci la riparazione. Se non siamo riusciti a essere adeguate, quelle volte in cui non abbiamo preso né 9 né 10, ma magari abbiamo preso pure 5, possiamo poi tornare dai nostri bambini e, attenzione, rivoluzione, chiedere scusa, così come fanno tutte le persone sensate. Mi dispiace, non avrei mai dovuto dire quella cosa, non avrei mai dovuto urlare così tanto, la mamma si è arrabbiata troppo, mannaggia, mi dispiace. Quindi, se sbagliamo possiamo riparare, ma per i nostri bambini è rassicurante avere a che fare con esseri umani e non con robottini. Questo si collega un po' anche alla terza, ma ci arrivo tra poco. Intanto sappiamo che è molto importante il fatto di ritenere e di provare a essere sufficientemente adeguate. Il fatto di non puntare al 10 rilassa noi e rilassa loro. Cosa vuol dire invece sii egoista? Allora, vuol dire che dobbiamo anche prenderci cura di noi. Io a volte lo dico, prenditi cura di te, ma di nuovo non è un pat pat numero due, oggi è il video dei pat pat, non è solo il fatto che naturalmente è un lavoro a volte usurante fare il genitore, è il fatto che intanto, cioè prenderci cura di noi, aggiusta o migliora una serie di cose inaspettate. Comunica che noi abbiamo dei bisogni, è importante, ve l'ho detto in un paio di video fa, ma che i figli si accorgano che gli altri esseri umani hanno bisogno è un insegnamento molto importante per il loro futuro. Due, gli offre un modellamento, ma voi come volete che siano un domani, che siano assolutamente sottoni e schiavizzati dai vostri nipoti? Non credo. Quindi fate vedere che voi avete una vita, adesso sorrido perché la scorsa settimana in modo inaspettato sono uscita per due sere di fila, cosa che non faccio molto spesso, e i miei figli, 18 quasi e 13 anni, parlandosi tra loro, oh ma esci anche stasera, brava ma c'hai una vita, grazie ragazzi, no no ma noi siamo contenti, ok, i figli sono contenti se noi abbiamo una vita, certo quando erano piccoli, no non uscire, dove vai, resta con noi, ma certo non è che esco tutte le sere o uscivo tutte le sere, ancor più quando erano piccoli che la mancanza di sonno si faceva sentire, ma è un prezioso modellamento per loro sapere che noi abbiamo anche altro. Oltretutto questo li fa pesare meno il discorso della genitorialità, se non usciamo mai e se mettiamo tutto su quel ruolo genitoriale, ci colleghiamo anche al perfezionismo, poi loro devono corrispondere a tutto quel peso e ragazzi chi di voi è stato investito da una responsabilità così alta come figlio sa quanto è spiacevole, ogni tanto i ragazzi dicono a me come psicoterapeuta vorrei che mia madre o mio padre guardasse anche ogni tanto un po' altrove, ok? E qui arriviamo al terzo punto che è noi certo dobbiamo informarci, certo dobbiamo seguire questi video, mettere i cuoricini mi raccomando, stelline, votate, iscrivetevi, però poi dobbiamo anche ogni tanto lasciare andare sullo sfondo, cioè ogni tanto i genitori mi dicono cosa posso leggere, cosa posso studiare su questo argomento e in alcuni casi io dico ma legga un fumetto, mi guardano tipo oddio ma come, non era questa la bibliografia che volevo. Ah, a proposito di bibliografia, nell'etichettina gratis del mio sito www.lapsicologasilvia.it ricordatevelo, è proprio facile www.lapsicologasilvia.it, trovate una linguettina gratis e dentro c'è il pdf dei miei libri del cuore, libri consigliati, dovrò aggiornarlo perché ce ne sono un paio nuovi aggiunti che stanno diventando i miei libri del cuore. Ecco, bene, leggeteli ma poi lasciateli andare sullo sfondo perché altrimenti cadete in quello che si chiama over parenting, cioè tutto, tutto, tutto il ruolo del genitore diventa preponderante rispetto a qualsiasi altra cosa facciate nella vostra vita. Vi sembra di essere un buon genitore perché in qualche modo fate tutto giusto ma questo, come già detto in qualche video fa, vi può togliere spontaneità e vi può anche portare a un certo punto al burnout, cioè siete bruciati dal fatto di cercare di fare una cosa così bene quotidianamente. Se uniamo tutte e tre le cose, ve lo dico in questo modo, anche meno, ok? E ve lo dice un'esperta di genitorialità, però ci sta per rispettare quindi il buon genitore e quello che trova anche un equilibrio con la vita, con la spontaneità, con il fatto di poter non essere sempre, 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 sempre ingaggiato in quel ruolo. Quale di queste tre vi viene più facile o più difficile? Se vi va ditemelo nei commenti, mi raccomando votate il podcast e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo e ci ascoltiamo il prossimo video. Ciao!